ben ritrovati su reviewing you oggi vado a recensire insieme a voi questa muta da sub da apnea ideale per la pesca insomma sott'acqua la marca e cresci nota marca italiana modello summer 2,5 mm di spessore acquistata su amazon ad un prezzo veramente di mercato di 99 euro vi vi lascio il link in descrizione così potete trovare direttamente questo modello ci sono diversi modelli quindi non confondetevi vi lascio il link in descrizione per questo ma se cliccate sul link potete anche vedere che ci sono diversi colori nello specifico abbiamo un grigio mimetico che ha proprio le macchie grigie quelle militari grigie verdi e poi c'è anche un blu stessa trama di non trama stessa fantasia diciamo come vedete qua c'è una parte un po più nera è una parte più chiara che simula lo scoglio e il blu invece simula proprio l'acqua del mare quindi era veramente bella anche quella blu costano uguale quella invece militare mimetica costa un attimo di meno c'è anche nera io l'ho presa color scoglio diciamo o comunque fondale questo grigio nero perché mi piaceva particolarmente poi secondo me nella pesca in apnea col fucile va veramente bene l'ho presa per l'estate come dice anche qua summer perché è leggera e comunque quando si sta un po sotto a lungo il freddo si sente dopo un po e quindi per le acque calde o primavera inoltrata può andare più che bene come vedete ci sono tutte queste cuciture fatte veramente bene sono andato già a provarle vi lascio un piccolo video dove vedete come mi sta addosso come la indosso ci sono diverse taglie dalla s alla 3x xl quindi veramente fantastica è un pezzo unico come vedete non è quindi due pezzi abbiamo il logo qui dell'azienda come vedete sulla sinistra il telefono aperto per acceso così ho tutte le indicazioni che vi ho detto che che vi andrò magari a leggere tra un attimo e come vedete le cuciture sono ben fatte c'è il colletto che si può andare a stringere tramite questa fascia in velcro come misure io devo dire che nonostante fossi fosse indicato sulla tabella una s sono alto un metro e 71 e peso sui 60 61 kg diciamo nonostante quello siccome ho una corporatura un po di spalle eccetera larga e ho preferito prendere una m non mi sono pentito affatto perché mi calza giusta giusta aderente a pennello e una s sarebbe stata veramente troppo stretta me la mostro c'è una cerniera veramente solida e robusta e il cordino per andare a chiuderla da solo si mettere avanti si tira comunque per aprirla come vedete qua c'è un'altra chiusura col velcro e questa qua è quella che ho fatto vedere prima veramente bella materiale che mi è piaciuto molto neoprene vi leggo magari i due dati al volo così giusto per capirci allora abbiamo 2,5 mm ma questo ve l'ho già detto è perfetta diciamo un po per tutte le dimensioni del corpo quindi non ha parti proprio più stretto più larghe e anti infiltrazione monoprene monofoderato per il collo e in metallite per i polsi e caviglie non so effettivamente metallite cosa si intende comunque non vedo rinforzamenti su polsi e caviglie e solo magari un po più stretta sulla sui polsi e sulle caviglie si possono quindi indorsare dei calzari tranquillamente la cerniera dorsale dice che ha una sotto cerniera acqua stop e niente vi ho detto praticamente tutto vi apro magari la cerniera così che la vedete questa è la cerniera dovrò provarla in acqua e vi dirò poi magari un mio feedback di com'è link in descrizione del prodotto iscrivetevi al canale se avete domande sono qui alla prossima review grazie a tutti